Professor Massimo Luciani, la prospettiva costituzionale. Prego, Professor. Grazie, Presidente. La prospettiva costituzionale l'ho intesa del rapporto tra eguaglianza e unità nazionale e sono costretto a tornare sul rapporto tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale. L'eguaglianza formale, lo dico per gli studenti giovani che sono presenti qui, cioè quella che è scolpita nell'articolo 3 primo comma della Costituzione, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni, eccetera, l'eguaglianza formale ormai è essenziale per la costruzione di una comunità politica. Certo, sono state costruite, diceva prima il Presidente Bertinotti, comunità politiche in assenza di eguaglianza formale, ma ormai questo è inconcepibile, è una salda e compiuta comunità politica, non la si può costruire senza eguaglianza formale. Tra l'altro l'eguaglianza formale è l'unica condizione che consente di costruire la cittadinanza, parlo solo di questa, come una astratta qualificazione giuridica di soggetti che sono tutti sul medesimo piano, accomunati dalle medesime caratteristiche formali, cioè da caratteristiche date dal diritto, e cioè l'essere nati su uno stesso territorio, se applichiamo il principio dello ius soli, oppure l'essere nati da soggetti già cittadini, se applichiamo lo ius sanguinis, o comunque se applichiamo un altro criterio intermedio tra questi, un criterio intermedio. Solo in questo modo si può garantire la pari partecipazione di tutti alle cose della polis. Il mito di Epimeteo, che non a caso ci è stato tramandato da Platone, che certo non aveva simpatia per la forma di governo democratica, nel mito di Epimeteo gli dèi danno agli uomini i beni naturali in misura diversa, qualcuno è bello, qualcuno è simpatico, qualcun altro è intelligente, qualcun altro è ricco, ma tutti hanno la medesima capacità, e cioè la capacità di essere in astratto idonei a scegliere politicamente, cioè ciascuno è idoneo a essere polites, e questo ce l'abbiamo tutti. E questo presupposto è il presupposto fondamentale dell'eguaglianza formale politica. Se l'eguaglianza formale è sostituita da valutazioni sostanziali, la conseguenza, mi sembra chiaro, è distruttiva o almeno è restrittiva della comunità politica, e questo è stato anche ricordato prima, è la questione della limitazione del suffraggio. Se connetto il suffraggio alla capacità intellettuale o economica, ovvero all'indipendenza di giudizio, e cade il principio dell'eguaglianza formale, e quindi della pari sottoposizione di tutti alla legge, per il profilo appunto della partecipazione alla cosa pubblica. è nota la visita di una delegazione di domestici che si recò 220 anni fa alla Costituente francese per reclamare il suffraggio, e vennero amabilmente ricevuti da un grande pensatore, il Costituente francese, cioè da Sieyès, che disse loro, insomma noi il suffraggio non ve lo diamo perché non vorrebbo mettervi in imbarazzo, perché voi potreste essere combattuti tra il rispetto nei confronti dei vostri padroni e l'indipendenza di giudizio, e quindi è bene che invece il suffraggio non vi sia concesso. Ecco, non fu un caso, come ha rilevato uno degli studiosi e gli storici più attenti dell'istituzione, cioè Pierre-Rosan Vallon, che nell'Ottocento la questione del suffraggio sia stata la questione della democrazia, sostanzialmente, perché era la questione dell'eguaglianza formale politica. E di tutto questo la Costituzione prende atto negli articoli 3, 48 e 51, almeno nei quali la questione dell'eguaglianza politica e dell'eguaglianza formale, perdonatemi, è scolpita con la massima attenzione. Ma l'eguaglianza formale si regge su una finzione, su un come se. È vero che il diritto opera costantemente attraverso finzioni. La persona giuridica, il rappresentante, l'organo, sono tutte quante finzioni, però anche non si può esagerare. Noi fingiamo che l'eguaglianza formale corrisponda ad uno stato di fatto, ma la realtà non è questa, non si può eccedere. Al di là della finzione, la realtà è quella delle diseguaglianze naturali, sia belli, sia intelligenti, sia simpatici, o sociali, sia ricchi, e via dicendo. Se trattassimo tutti allo stesso modo, avvantaggeremmo soltanto i fortunati, e non si cementerebbe l'unità della comunità politica, che è anche comunanza di interessi e di condizioni di vita, secondo la concezione romana della unità e della cittadinanza, che troviamo in Cicerone, nella quale mi riconosco e con la quale chiuderò tra due minuti. È per questo che la Costituzione, all'articolo 3 secondo comma, affianca l'eguaglianza formale, l'eguaglianza sostanziale. L'eguaglianza sostanziale, è stato detto prima, qual è il contenuto dell'articolo 3 secondo comma, è una straordinaria previsione, questa della Costituzione. E sottolino l'ampiezza della garanzia, qui c'entrano molto anche gli stranieri, ricordo una bella sentenza della Corte Costituzionale, sul servizio di trasporto pubblico nella Regione Lombardia, nella quale fu detto con molta chiarezza che alcuni diritti sociali, in particolare, non sono goduti soltanto dei cittadini, ma anche degli stranieri. Ebbene, quello che troviamo nell'articolo 3 secondo comma, sono parole? Spesso si sente dire, vabbè, ma sono bellissime parole della Costituzione, ma che ci servono? La realtà è tutta un'altra, è vero, ma io osservo soltanto queste cinque cose con le quali concludo rapidamente. Primo, non sappiamo cosa sarebbe accaduto se quelle parole non fossero state scritte. Secondo, quelle parole danno una riserva di legittimazione per le scelte politiche egalitarie. Poi un problema di volontà politica, di condizioni politiche, ma la riserva di legittimazione che è concessa da quelle parole, c'è tutta. Terzo, quelle parole danno una straordinaria forza di resistenza della Costituzione, di fronte a tutte le ipotesi di un suo sfiguramento. Quarto, v'è un immediato valore giuridico di quelle parole. La Costituzione non conosce norme veramente programmatiche, ormai questo, diciamo, nella dottrina, lo ha appurato da almeno 50 anni, e tutte le norme costituzionali sono immediatamente applicabili. Infine, quelle parole danno una sostanza alla unità nel nome della Costituzione. Si parla tanto di patriottismo costituzionale, ma il patriottismo costituzionale è sostanzialmente una formula vuota se non si riempie di contenuti e di sostanza. E vengo dunque a quella concezione romana, ciceroniana, della cittadinanza, nella quale mi riconosco. Per Cicerone, il popolo non era un cetus multitudinis, quo quo modo congregatus, una cozzaglia di persone che stavano insieme, chissà perché. No, era un gruppo sociale iuris consensu et utilitatis comunione sociatus. E quindi un gruppo sociale che stava insieme grazie al diritto e grazie alla comunità degli interessi. E da questo punto di vista coniugare l'eguaglianza formale e l'eguaglianza sostanziale non è opportuno, è assolutamente indispensabile. Grazie. Grazie al professor Luciani. Grazie. Grazie. Grazie.